SONO MOLTO ORGOGLIOSA DI RICEVERE QUESTO PREMIO che sottolinea il lavoro svolto da me insieme alla Fondazione Trussardi dal 2002 da quando la Fondazione ha intrapreso un cammino inusuale e innovativo che è quello di portare l'arte contemporanea a contatto con la gente in modo inaspettato scoprendo dei luoghi nuovi e nascosti ma soprattutto parlando di temi complessi e importantissimi attraverso le mostre che produciamo